A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale 60 case assegnate dal comune di di Oristano su una richiesta di quasi 300 famiglie. In città rimane un'emergenza all'edilizia popolare. L'amministrazione sta studiando percorsi per soddisfare altre domande. Sentiamo. Una famiglia su cinque ad Oristano riesce ad avere una casa a canone agevolato dal comune. A dirlo sono i dati delle assegnazioni fatte nell'ultimo anno dopo che l'amministrazione aveva deciso di rinnovare la graduatoria degli aventi diritto. In base alla tipologia di casa che ci viene assegnata da Area noi procediamo a individuare il nucleo familiare che possa accedere a quell'alloggio. In questo momento per esempio Area ci ha comunicato la presenza di otto alloggi e due sono di una tipologia di 60 metri quadri quindi potranno andare a soddisfare chi è in graduatoria nei primi posti e ha un nucleo familiare di quattro persone e le altre sono invece da 45 metri quadri quindi procederemo scalando a chi ha un nucleo familiare massimo di due persone perché la norma ci impone questo. Quindi complessivamente possiamo dire che più o meno avremo assegnato 60 case ma questo non vuol dire che siamo arrivati al 60esimo posto della graduatoria proprio per il discorso che ho appena fatto. 240 domande in evase famiglie che hanno bisogno di un tetto sotto il quale vivere. Gli appartamenti dell'area, agenzia regionale per l'edilizia abitativa sono saturi ma dal comune arrivano a buona notizia. Noi abbiamo avuto un finanziamento regionale pari a 1 milione e 200 mila euro col quale abbiamo già pubblicato una manifestazione di interesse che scade il 29 gennaio quindi mi appello anche agli imprenditori che hanno molto invenduto e col quale acquisiremo appunto questi appartamenti di tipologia medio grande da assegnare appunto a delle famiglie anche di almeno quattro componenti e quindi implementiamo il patrimonio per però destinarlo proprio all'edilizia popolare. Intanto però continuano i controlli sui furbetti. Chi ha fatto domanda ma non ha i requisiti per il diritto alla casa? Il protocollo d'intesa Comune e Guardia di Finanza nel 2015 ha dato i suoi frutti. Posso dire che anche nella graduatoria che è stata pubblicata e che assegnava di fatto le case al momento della presentazione dei requisiti molti non avevano i requisiti dichiarati e quindi si sono visti decadere questo diritto e quindi la casa non è stata loro assegnata. Questo lo posso dire con certezza perché appunto abbiamo diversi riscontri in questo senso. La settimana scorsa abbiamo sentito gli assessori oristanesi sul bilancio dell'attività posta in essere dalla giunta Tendas. Da oggi sentiamo invece i gruppi di opposizione a partire dall'Udc. Da Giuliano Uras, giudizio severo su ambiente e tributi. Questa è una giunta assolutamente fallimentare. Ha avuto delle idee, vuole portare avanti delle idee, non ha metodi per farle condividere. Spesso la stessa maggioranza protesta contro il sindaco che è un uomo solo, è un uomo che governa convinto che quello che pensa a lui, che decide a lui sia quello giusto per la città. La città è sporca, è trascurata, il servizio di interesse urbana che tanto hanno decantato è peggio di quello che avevamo prima, non vediamo grossi miglioramenti, anche se siamo bravi nel fare la differenziata, i cittadini fanno la loro parte, l'amministrazione no. Basta che voi giriate la telecamera qui in via Garibaldi e vedete bidoni dell'immondezza, sporcizia, scusate urina e vomito per strada da mesi, da mesi. Per non parlare delle elezioni canine. Tributi hanno detto che sono la giunta che ha abbassato le tasse comunali. Questo non scandale, è una bugia. Loro nell'ultima volta hanno fatto, nell'ultimo anno hanno fatto una modifica che è andata a vantaggio di alcune categorie. Nel complesso generale questa modifica ha portato a una diminuzione generale delle entrate, ma nella tasca dei cittadini, voi non dovete chiederla a me, fermate il primo che vi capita per stare, chiedetele se ha avuto una diminuzione di tasse. E' una follia, non è vero, non c'è stata nessuna diminuzione di tasse. E poi che diminuzione di tasse è? Una che arriva nel 2012 aumenta, in qualche caso anche del 40% le tasse, se noi andiamo a guardare i singoli dettagli, va bene, ci sono state anche modifiche legislative, cambiano le tasse, aumentano le tasse, poi nell'ultimo anno le riduci del 10%, che senso ha? Così non è una diminuzione delle tasse. Non può essere solo il territorio di Oristano a dover pagare il conto della scarsa lungimiranza politica della giunta regionale in tema di sanità. Ad affermarlo è il consigliere di Forza Italia Oscar Cherchi, che recrimina sulla riduzione del tetto di spesa per le prestazioni specialistiche da privato a cui è stata costretta la Asla 5 di Oristano. Una riduzione di spesa di quasi il 20% rispetto agli scorsi anni e la conferma che il territorio oristanese per questo governo regionale di centro-sinistra conta meno di niente, afferma Cherchi. Non si spiega infatti come le riduzioni del tetto di spesa delle altre aziende sanitarie locali si aggiri intorno all'1 o 2%. La delibera alla quale si riferisce Oscar Cherchi impone alla Asla 5 un abbassamento del tetto di spesa di quasi 1.300.000 euro, cioè condanna i pazienti oristanesi a lunghe trasferte verso le strutture più adeguate o a pagare di tasca propria un diritto che la regione dovrebbe garantire in ugual misura per tutti gli abitanti. I giganti di Monte Prama sono stati tra i tesori più visitati in Sardegna. Il 2015 ha registrato un boom di presenze nel Museo Civico di Cabras. Intanto a breve l'amministrazione comunale avviera una vasta campagna promozionale per dare maggiore visibilità alle statue. Vediamo. Mare, spiagge ma soprattutto storia. Il territorio del Sinis e la sua inconfondibile bellezza continua a essere meta preferita di chiama a fondere la passione per la natura con quella per l'archeologia. A confermarlo sono i numeri del 2015. Siamo arrivati a 160.000. L'ultimo dato del ministero, Tarros inoltre, è la primaria archeologica della Sardegna per visitatori, quindi 90.000 visitatori, quindi già un record. Quindi poi tra il museo e Tarros diciamo che i numeri che ci sono stati a Cabra sono da primato in tutta l'isola. A caramitare la curiosità poi sono stati loro i giganti di Monte Prama. a migliaia hanno affollato il museo civico di Cabras per ammirare la loro imponenza. L'interesse è aumentato probabilmente grazie a tutta una serie di lavori che sono stati fatti per quanto riguarda anche le ultime campagne di scavo dove sono stati esposti al museo, restaurati direttamente al museo, quindi questa è stata sicuramente un'azione molto molto importante. Quindi grande soddisfazione. Si può affermare che il lavoro intrapreso finora ha dato i suoi frutti ma c'è ancora da fare e bisognerà ancora promuovere i giganti e comunque tutto il Sinis. Verrà avviata una campagna promozionale è per quanto riguarda l'aeroporto di Cagliari ma anche per quanto riguarda l'aeroporto di Olbia. Tengo a precisare questo perché si tratterà anche di un'esposizione che durerà diversi mesi a Olbia proprio nel clou del periodo estivo. Quindi partiremo dal 28 di aprile fino al 30 di settembre nella sala espositiva di Olbia. Saremo presenti anche per due mesi negli aeromobili meridiana e quindi è una campagna di scavo importante. Continueremo con questa campagna, ritengo che ci sarà a febbraio anche Firenze, una fiera internazionale archeologica, quindi diciamo che la campagna promozionale è già avviata. Quindi c'è tanto da fare. Tengo a precisare un altro importante tassello che è quello della segnalitica stradale. Quindi in tutte le assi della Sardegna, gli assi principali e viari della Sardegna ci saranno i cartelli che indicheranno quindi il museo di Capres di Montebrama. Contrastare l'emergenza a Mianto è una delle principali strategie della Giunta regionale. Parola dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente Donatella Spano nel nuovo bilancio. Ci sono 1.200.000 euro per il 2016, oltre ai 9.400.000 per il 2017 e altrettanti per il 2018. si potrà contare anche su altri 600.000 euro l'anno per la bonifica delle condotte idriche nello stesso biegno che si inoltre dà raggiunta 15 milioni di euro aggiuntivi nel patto per il Sud. E a questo proposito sentiamo le dichiarazioni del vice sindaco di Solarussa, Mario Tenda, sul censimento dei manufatti in Amianto in programma proprio nel suo comune. Sentiamo. Noi come amministrazione comunale abbiamo predisposto una richiesta di finanziamento per un sostegno finalizzato a censire tutti quelli che sono i beni immobili di proprietà privata e di proprietà pubblica. Sulla base di questa richiesta è stato poi definito un accordo con l'Agenzia regionale per lavoro che ci ha consentito di assumere due tirocinanti che avranno il compito di fare il porta a porta per censire e stabilire quant'è le superfici che al momento risultano ancora in Amianto. E quindi sulla base di quello poi c'è una ripartizione molto più tecnica che è stata fatta con il coinvolgimento anche dell'ASL che prevede una ripartizione tra settori pubblici e settori privati utilizzati e non utilizzati all'interno del centro abitato e via discorrendo. Insomma è un censimento sufficientemente spinto che consente di avere un quadro molto preciso e definito di quello che è la situazione e il contesto in ambito locale. Adesso invece ci spostiamo nel margine per parlare di imprenditoria giovanile. Lo facciamo con Pier Gavino Vacca. Averli così e soprattutto ad assaggiarli sono buoni e non si sente niente di diverso. Invece qualcosa di diverso c'è, sono tutti dolci o prodotti in forno privi di glutine e la proteina che rende elastica la pasta ma che non è tollerata da almeno il 10% degli italiani che soffrono di celiachia. Spesso poi sono anche dolci senza lattosio, lo zucchero non tollerato da una quantità di italiani ancora più alta, si parla del 40%. Naturalmente il prodotto di uso più comune è il pane, ma a carnevale non potevano mancare le zippole. L'idea avviene perché vi è una mancanza, vi è una mancanza nel territorio di determinati prodotti con queste caratteristiche, prodotti quindi senza glutine e senza lattosio, vi è un'enorme fetta di intolleranze alimentari che richiedono appunto questo prodotto. Si trovano solamente in giro prodotti confezionati o comunque di matrice industriale e noi abbiamo cercato di proporre una gamma di pasticceria e di panetteria fresca con determinate caratteristiche, con determinate materie prima, in modo che fossero comunque alla portata di tutti. Si tratta della intuizione di Davide Azzori, 31 anni, laurea in economia e master di secondo livello su management alimentare, chiasi che peregrinare in cerca di un lavoro o andare a Londra ha preferito continuare la tradizione di famiglia, quella dei panettieri, con qualche innovazione. Nel sangue c'è una tradizione che va avanti da generazioni, quindi dal nonno, dal padre, dagli zii, insomma, che comunque hanno fatto la loro vita, hanno fatto del pane e comunque della pasticceria la propria vita. Moderne attrezzature dove si lavora rigorosamente senza glutine, per ora due al lavoro. A breve aprirà anche il bar dove tutti, c'è via, c'è il nonno, potranno gustare i pasticcini. L'attività è seguita da uno chef famoso, Marco Scaglione, che a breve inizierà anche un corso di cucina. E siamo arrivati alla pagina dello sport, c'è anche una giovane atleta oristanese tra quelle convocate al raduno della nazionale italiana Under 23 di Canoa. Dal 15 al 17 gennaio prossimi, l'Ariattiana sarà Cassel Gandolfo per i test della specialità. Insomma, proseguono i successi per il circolo nautico di Oristano. Sentiamo ai nostri microfoni le dichiarazioni del Presidente. Faccio i complimenti ad Ilaria perché è un inseguimento durato più di 10 anni di lavoro. Adesso lei quest'anno andrà al Custorino. Risultati importanti per Ilaria Attiana, risultati importanti per quanto riguarda noi del circolo nautico. Ma quella è la ciliegina sulla torta di una stagione che è stata straordinaria. Intanto devo dire questo, il Canoa Giovani nazionale, quindi l'intera squadra del Canoa Giovani, capitanata da Andrea Lilliu e Angelo Casu, sono arrivati terzi in Italia assoluti. E' quindi un risultato storico da questo punto di vista. In Camporosa abbiamo vinto di ieri le classifiche definitive, abbiamo vinto la classifica nazionale italiana, quindi anche questo è stato un risultato importante. Sette titoli italiani conquistati nel 2015 per la Canoa, ma soprattutto abbiamo avuto un grandissimo risultato complessivo perché abbiamo vinto 75 medaglie nazionali. oltre, adesso non mi ricordo, 65 titoli regionali. Ma questo è assolutamente un livello di eccellenza collegato ad altri aspetti che il circolo nautico sta cercando di sviluppare sotto l'aspetto strutturale. Insomma siete bravi, vi impegnate. Diciamo che è stato un inseguimento durato tanti anni, non dico che siamo solo bravi, siamo stati anche un po' fortunati da certi punti di vista, però abbiamo sicuramente tanta passione e tante competenze. Non solo nella Canoa, che è il fiorellochiello di un percorso durato 20 anni, ma stiamo rilanciando la vela e stiamo soprattutto lavorando per il consolidamento economico delle strutture del canottaggio. Non dimentichiamoci che Stefano Oppo ha conquistato la qualificazione per le Olimpiadi. Non riveste i nostri colori perché oggi fa parte del gruppo sportivo del Corpo Forestale dello Stato, però è un atleta che si è formato da noi, si è allenato da noi e che oggi andrà a portare i colori di Oristano alle Olimpiadi. Bene, con questo è davvero tutto, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie. Grazie.